Ciao, sono Paolo Baci e vi presento questo Roller Team Granduca, quindi la fascia alta della Roller Team 267 TL. Un camper molto comodo e funzionale. Se volete vedere le caratteristiche di questo camper, cliccate nella vostra destra in alto che si aprirà la scheda del nostro sito dove ci saranno scritte prezzo e tutte le caratteristiche. Questo è il suo garage, guardate com'è grande. È un garage con tanti contenitori, sia per quanto riguarda i servizi, come la stufa, sia un contenitore basso che sfrutta il doppio pavimento, sia contenitori sportelli che accedano alla parte interna. Eccomi qua. E questa è la grandezza del garage. supporti per agganciare biciclette e motorini e quant'altro. Sportelli sia al lato destro che al lato sinistro grandi. Perché servono i sportelli grandi destra e sinistra? Perché a volte siamo incastrati da una parte e non dall'altra, per cui l'accesso al garage viene effettuato da una delle due parti. Questo è un camper con il doppio pavimento e qua c'è lo sportello destro. Questo è il suo spazio contenitore. Sulla parte sinistra lo sportello sinistro, lo stesso. Eccolo qua, con un grande contenitore laterale. Questa è la porta zanzariera, una bella porta d'accesso, una bella pedata. Lo sportello porta scarpe nel doppio pavimento. La parte centrale, lo sportello, che si accede allo spazio, al doppio pavimento. E sia questo che anche questo qua. Eccolo qua. Questo camper è un face to face, faccia a faccia. Quindi molto accogliente. Le due poltrone che girano. Questa è la zona giorno. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi un luogo molto accogliente per far due chiacchiere. In questo modo si accede facilmente a destra e sinistra. Guardate che poi questo gira. Oppure facendo in questo modo diventa un bel tavolo grande. Guardate com'è un bel piano dove ci si può mangiare con estrema facilità. Il blocco cucina. Tre fuochi. Un piano d'appoggio. Un bel lavello. Servizi sia porta asciughini, porta rotolo. Vari cassetti. Lo sportello laterale. L'accesso laterale o l'accesso davanti con lo scorrevole. Eccomi qua. E oltretutto è il fermo che fa sì che non esca durante il viaggio. La parte, lato destro. Un bel contenitore sopra il frigorifero. Sempre comodo per metterci pentole. Oppure il frigorifero. Un bel frigo. Congelatore. E frigorifero sottostante. La parte laterale in questo caso diventa un bel portatelevisore. Ci viene messo uno scivolo col televisore che quindi si sposta e lo potete vedere nel migliore dei modi. Andiamo sulla parte posteriore. La parte posteriore ha questa porta che divide la zona giorno alla zona notte. E' un bel letto. Guardate l'accesso veloce. Qui c'ha l'armadio. Sia il lato sinistro che l'armadio destro. E questo è il letto. Così vi faccio vedere gli ingombri. Qua una bella, un bello blu. Quindi sopra gli occhi. Io eccomi qua. Sono con le scarpe ma tanto c'è la plastica. Una bella finestra destra, una bella finestra sinistra. E un bello blu. Quindi un bello scambio d'aria ma anche un grande panorama. Il water. Eccomi qua. Qui vedete che sia quando c'è la porta ci sto benissimo. Ma anche con la porta chiusa se volete avere un po' di intimità ci si sta bene. La finestra è il suo fianco per cui c'è un bello scambio d'aria. Lavello. Bello profondo e di facile uso. La doccia, una bella doccia in alto e il telefono. Quindi una doppia doccia come a casa. La funzionalità come a casa. Oltretutto non vi preoccupate perché entrambi queste docce sono miscelate con aria. Quindi consumate veramente poco. Vedete come mi muovo tranquillamente sia col telefono che con la doccia soprastante. Questo camper è un quattro posti quindi un bel matrimoniale posteriore e un buon matrimoniale sul letto basculante. Non copre la porta quindi tranquilli per coloro che si sentono un po' chiusi. Per poter accedere sul letto o tramite scaletta nella parte posteriore o come faccio io salendo sui sedili e montando su... Ho le scarpe scusate ma è tutto plastificato. Questo è il letto quindi guardate la grandezza, la larghezza di questo letto. Poi che restringe non vi preoccupate perché l'importante è la larghezza del petto. Quindi questo lato qua. Arreggiato perché questa finestra è apribile. Quindi vi aspetto, vi aspettiamo per farvi vedere questo camper e tanti altri camper nuovi e usati ad ottimi prezzi da un'azienda con tanti servizi come la Caravan Bacci. Ciao!